Sanità bellunese, nella giornata di mercoledì si è svolto un incontro tra il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, quello di Feltre Viviana Fusaro assieme ai rispettivi assessori al sociale dal Ponte Zatta e l'assessore regionale Manuela Lanzarin, presente anche il consigliere regionale bellunese Giovanni Puppato, sul tavolo l'organizzazione sanitaria, i progetti della regione per potenziare le strutture, il problema della carenza di medici, di primari e sanitari, le possibili soluzioni per ottimizzare i servizi e migliorare la gestione per i pazienti. A mio modo di vedere è stato un incontro veramente positivo, dove abbiamo portato tematiche importantissime e abbiamo portato le istanze di tanti cittadini e associazioni che in questo periodo vengono a rappresentare un certo malumore, quindi assieme all'assessore ci siamo confrontati anche sul potenzialmento delle strutture, ma soprattutto poi anche alla gestione interna di quello che è gli staff medici, alle eccellenze e anche a una visione unitaria che abbiamo insieme le due amministrazioni, di vedere una sanità unitaria che possa abbracciare tutto il nostro territorio montano. Io in particolare ho ragionato sul fatto della territorialità che a mio modo e a nostro modo di vedere è fondamentale al fine di poter avere delle personalità e delle eccellenze sia dal punto di vista dei primariati sia dal punto di vista dei medici che possono vedere all'interno dei nostri ospedali una possibilità di crescita e quindi di creazione di un'equip che già abbiamo di eccellenza che intendiamo nel nostro piccolo poter potenziare, con estrema determinazione però. Si è discusso inoltre della difficoltà delle case di riposo dove il costo sostenuto per la cura e l'assistenza agli ospiti SAPA, sezione ad alta protezione Alzheimer e agli stati vegetativi permanenti è molto alto e coperto solo in piccola parte dal contributo regionale. Al momento questi servizi, proprio per le loro peculiarità, sono presenti solo nelle due case di riposo di Belluno e di Feltre.